Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 15 dove in direzione La Spezia ci sono code in entrata da Ulla e 9 km di coda per traffico intenso tra Ulla e l'allacciamento con la 12. In A1 code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello in direzione Bologna. Rallentamenti tra Aglio e Calenzano, Sesto Fiorentino in direzione Roma e tra il Bivio con la variante di Valico e Badia in direzione Bologna. In A11 rallentamenti tra Montecatini e Lucca Est in direzione Pisa. In A12 in direzione Rosignano rallentamenti tra Santo Stefano di Magra e Livorno e code in uscita alla barriera di Rosignano Marittimo. Sulla FIPI LECODE per lavori tra Montelupo Fiorentino e Lastra Signa in direzione Firenze. Sulla Statale 1 Aurelia rallentamenti tra Vada e Scarlino Scalo in direzione Roma. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!